Eccoci qua, siamo all'evento di Madrid, è appena finito, abbiamo fatto le premiazioni, abbiamo testato ancora la solidità di questa azienda e possiamo dire veramente che è una realtà solida e destinata a durare nel tempo. Se anche voi avete voglia di creare qualcosa e anche voi avete voglia di realizzare i vostri sogni, potete contattarmi RonaldProsperi.mgoldex.com Ciao! Gold is money!